il ricordo più bello che ho della mia infanzia è cucinare con mia madre la domenica mi divertivo tantissimo e non lo dimenticherò mai non credo che io sia stata di grande aiuto ma mi piaceva così tanto rubare un po d'impasto e leccare la spatola era quella la migliore perfetta le torte di mia madre erano un po pesanti per dirla tutta oggi mangiamo cibo più salutare e le prepariamo in maniera diversa seguiamo una ricetta con meno zucchero e più frutta sostituiamo la farina con le nocciole ci sono tantissime possibilità voglio mantenere viva la tradizione di mia madre ma allo stesso tempo metterci il mio tocco personale cucinare insieme mangiare insieme per me significa mangiare in modo salutare per me è molto importante che i miei figli possano trarre vantaggio da questo per il resto della loro vita e che io riesca a formare in loro una coscienza del vivere una vita salutare fare il genitore non è facile ma la buona alimentazione può esserlo